ciao ragazzi ben ritrovati siamo laboratorio torno a parlare di bonsai pre bonsai costruzione mantenimento potatura soprattutto potatura estiva che molti vi dicono che non si fa perché in estate hanno troppo caldo non si può mettere non si può portare la pianta attenzione perché poi va in sofferenza cerchiamo di capire quali sono le piante da potare quelle che invece è buona cosa non potare come vedete questo è un cipresso pianta che in estate vegeta molto bene non vede l'ora di sentire un po' di caldo per vegetare e per maturare e per stare più ben che mai ok quindi questo è un tipo di pianta come mediterraneo in generale che in estate funzionano meglio che la primavera quindi cipresso olivastro il leccio la filirea tutte piante che in estate prima arrivano caldo vanno bene maturano sparano quindi hanno bisogno del caldo quindi per quanto riguarda questa vegetativa quella cosa che vabbè per carità da me non esiste però se c'è magari su un aceropalmato in sud italia magari al nord magari neanche sta bene quindi cercate sempre di regolare la linea guida che avete letto in giro e cercare di capire che ogni pianta storia se ok è fondamentale entrare in simbiosi con le piante quindi se avete piante che in estate stanno bene semplicemente le portate avanti per quello che sono senza problemi come vedete sto facendo la potatura tolgo quello che ha maturato lascio quello che un po' più indietro come faccio in tutte le piante per quanto riguarda la concimazione anche qui come tutte le altre non dico più i miei quattro prodotti estivi per quelli che dicono amo bisogna stare attenti a un sovra dosaggio di sovra concimazione perché potrebbe causare problemi brucia la pianta uno stress da concime ma chi cazzo vi ha detto di concimare di più del dovuto cioè dico io ma ragazzi i prodotti sono fatti apposta per la concimazione primaverile estiva autunnale invernale nessuno ha mai parlato di dare di più di quello che bisogna ogni prodotto ha la sua specifica dietro indicazione per quanto utilizzarlo come quindi dosaggio e tempistiche se poi voi volete darne il triplo il quadruplo dieci volte tanto tutta la scatola la rovesciate sopra quello è un problema vostro un po' come con con le vitamine che prendete che dovete dare ai vostri figli cioè se il medico vi dice dagli dieci grammi di questa pastina e siete a posto se poi gli date un chilo è ovvio che dopo ci sarà qualcosa che non va non è che la medicina gli ha fatto male siete voi che non avete capito che dovete fare quello che c'è scritto punto e basta qui tornando anche al discorso omeopatia vegani roba dicendo ragazzi per quanto riguarda anche le medicine in generale siccome sono molte persone che dicono no ma la roba chimica fa male no ma i farmaci fanno male ragazzi capirete l'importanza dei farmaci quando starete male veramente ok perché finché state bene bla bla anche c'è un mio amico ma noi farmaci stanno male fa male fa venire un ulcera ti fa venire la pressione alta che me lo diceva me perché io sono infermiere no dopo due settimane questo ragazzo si è rotto una gamba è andato in ospedale quindi non su facebook ma in ospedale a pronto soccorso gli hanno dato i farmaci per guarire ed è stato muto ok perché capito che forse quello che diceva lui non contava un cazzo se voleva guarire magari doveva stare muto ok c'è un discorso per le piante c'è inutile che tiriamo sul discorso sulla stagia vegetativa sulla concimazione e poi effettivamente non c'è risultato cioè allora ragazzi quello che faccio io quindi il modo di coltivare la pianta di potarla e di concimarla serve semplicemente a portarvi da un punto a fino a un punto b punto tutto il resto perché per come ma cosa c'è cos'è perché non me ne frega niente niente mentre soltanto farvi capire come fare bonsai non bisogna avere il pollice verde non dovete essere dei maghi potete farlo tranquillamente anche voi a casa vostra proprio come faccio io che io posso garantirvi non ho studiato botanica agraria non so niente nulla di niente non mi interessa niente ok ma semplicemente piace fare bonsai e coltivare le piante ok semplicemente bisogna sapere regolarsi in base a quello che abbiamo davanti quindi importante capire che pianta abbiamo concimarla come si deve perché se no non si muove di una virgola e poi andiamo intervenire ok sul sito c'è ancora lo sconto 10 per cento era finito l'altro giorno ho deciso di prolungare l'offerta per un'altra settimana perché alcuni ragazzi sono reti tardi a io non ho visto non sono stato attento non sono uscito a fare l'ordine fino al 22 agosto la promozione attiva ragazzi fate l'ordine adesso per tutto l'anno così vita 10 per cento ragazzi ci guadagnate fate un ordine grosso facciamo una sola spedizione quindi non state lì a fare 200 spedizioni 20 ordine fate uno ragazzi il segreto è fare un ordine fate bulk fate un ordine buono che vi serve per portare avanti le vostre piante ok e prendete anche qualcosina in più in modo che se rimanete senza ok ce l'avete già pronto no per quanto riguarda anche i preventivi tutto vi dicendo cercate di capire una cosa fondamentale ragazzi le piante devono star bene cioè le piante devono stare bene non c'è un problema correlato a un qualcosa le piante devono stare bene punto e basta le mie sta bene sono verdi vegetano bene fanno i frutti fanno le pegne fanno fanno tutto quello che devono fare perché vi sono sempre stare lì a tirare fuori no però e no ragazzi tutto quello che tirate fuori serve soltanto per mettervi un bastone fra le ruote da soli no per mettervi dei paletti mentali l'obiettivo è far bonsai facciamo bonsai punto e basta ok a bomba ragazzi approfittate adesso per l'ultima settimana dello sconto 10 per cento conviene a voi non conviene a me fate quello che ho fatto date i prodotti che servono per far sì che la pianta vegeti bene a bomba anche in estate portate avanti i vostri obiettivi avete un risultato fine anno garantito ok punto e basta ciao a tutti ragazzi super bomba a breve novità e vai oddio ciao a tutti ragazzi mi raccomando fate le cose che dovete fare fate poche pugnetto ok ciao a tutti